Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Amate il colore? La creatività? Amate personalizzare e rendere unico ogni vostro progetto? Abbiamo quello che fa per voi. Entriamo insieme nel mondo della passamaneria. Scopriamo insieme e vediamo nel dettaglio la passamaneria mini ball. Si tratta di una fettuccia in tinta unita non elastica che ha un'altezza di circa un centimetro. La vendita è invece al metro. Il materiale di cui è composta questa passamaneria è il poliamide. All'estremità presenta queste piccole ball che doneranno certamente carattere e originalità alle vostre creazioni. Questo grazie anche alle tantissime colorazioni in cui è disponibile. Pronti a scoprirle tutte? Grazie a tutti. La versatilità di questo prodotto è davvero incredibile. Possiamo passare dalla personalizzazione dei capi d'appigliamento, che siano questi all'uncinetto oppure una semplice t-shirt bianca potrebbe acquisire un grande valore. Ma pensiamo anche ad esempio a delle infradito dei sandali creati da voi. Vi basterebbe quindi una suola, la scelta della passamaneria, della colorazione che preferite e voilà, il gioco sarà fatto. Ma non dimentichiamo assolutamente gli accessori. Ebbene sì, pensate ad esempio alle pochette in juta, le borse in juta, con una passamaneria colorata, magari anche in diverse forme e sarete perfette per arrivare in spiaggia e dettare stile. Non dimentichiamo però gli accessori per la casa. Pensate ad esempio alla bordatura di un cuscino con questa passamaneria microball. Oppure come rifinitura per una coperta o delle copertine da passeggino da culla. E sempre restando in tema mare avete già pensato a come personalizzare il vostro bikini? Con la passamaneria super colorata avrete un effetto unico assicurato. Ebbene sì, questo prodotto potrà essere utilizzato anche per decorare i vostri diari, quaderni, un tocco di originalità e vivacità davvero incredibile. Potrete anche utilizzare la passamaneria per incorniciare le vostre foto. Vi basterà ritagliarla delle dimensioni che preferite e in pochi passaggi avrete la vostra opera d'arte unica. Una volta personalizzata la vostra borsa potreste pensare anche di creare un accessorio in abbinamento, magari anche un cerchietto. Vi basterà semplicemente avvolgere la fettuccia lungo il cerchietto oppure applicarla delle mollettine. Quindi se siete alla ricerca di un tocco di originalità, di vivacità, questo è il prodotto giusto per voi. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella e iscrivervi al nostro canale così da non perdere nessuna novità Tessiland. Seguiteci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissimi nuovi articoli. Al prossimo Tessiland News!